Ragazzuoli, prima che inizi il video ci tenevo a dirvi che questo qui è l'ultimo foottour pre-registrato, ciò significa che da settimana prossima ricominciano i daily vlog. E altro annuncio, sempre settimana prossima, il 15 novembre, mi troverete a Roma alle 5 in Piazza del Popolo per un bel raduno insieme a tutti i ragazzi di Kaizen. Adesso iniziamo con il foottour. Amici miei, sono lieto di darvi il benvenuto in questo secondo episodio di foottour qui a Cagliari, in Sardegna. Ci sono ancora veramente tanti cibi da provare, da assaggiare, perciò direi subito di iniziare con questa prima giornata di foottour. Daie! E per questa prima colazione di questo secondo episodio di foottour qui a Cagliari, moltissimi mi avete segnalato Pirani. Inizialmente mi è venuto un colpo perché esattamente accanto c'è scritta l'insegna, Pirani, con le serea cinese che naturalmente abbassate. Quindi ho detto no, è chiuso, cioè è in ferie. E invece no, è aperto, è di là della strada. Classica colazione italiana. Cappuccino e pasta. Te lasciamo anche il cappuccino con latte di soia, però non volevo farmi venire il cagotto. Treccina con la crema, molto leggera. Poi mi avete detto che qui da Pirani è molto buona pizzetta sfoglia, quindi che fai, non la prendi? A differenza di quella di tasta, qui la base è comunque sfogliata, ci sono molti strati. Mentre quella di tasta, come abbiamo visto nel primo episodio di foottour, è un sacco sfogliata sopra, quindi c'ho tutti gli strati. Mentre la base è molto sottile e io personalmente la preferisco in quel modo. Buona, ma sapete com'è ancora più buona? Esattamente così. Bella questa. Esattamente davanti a pasticceria Pirani si trova il mercato civico di San Benedetto. A me i mercati della città mi ispirano sempre tantissimo, quindi andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a trovare. In realtà c'è principalmente pesce, però ci sono alcuni stand di forni. In cui risisco abbastanza, ho visto un dolcettino tipico tipico sardo che ancora non ho provato. Le pardulas. La pardulas sarebbe un pezzo ricotta con sotto questa sfogliettina che fa questa forma stella molto particolare e molto simpatica. Adesso finirà nella mia bocca. Facciamo un po' un tortino di riso, però appunto senza riso, con la ricotta, uovo, zucchero. Tanta roba la pardula. Poi mi sono preso anche l'attilicas. Pasta di mandorla qui dentro, non male. Però continuiamo un attimo sul mercato perché ho visto che c'è un secondo piano. Qui sopra c'è il reparto macelleria, frutta, verdura, ci sono alcuni forni, però io direi che non c'è niente di nuovo da assaggiare. Possiamo continuare. Però molto interessante questo mercato, ci sono un sacco di forni dove vendono i prodotti tipici, biscottini, pani tipici sardi. Perciò fateci un salto. E per il pranzetto di oggi, amici miei, mi sono spostato al Poetto, la spiaggia, diciamo quella di Cagliari, la più vicina, per andare a mangiare un bel painozzo dal baffo. Conosciuto anche come Caduzzoni, un truck che fa painozi. Mi avete segnalato veramente in tantissimi questo. Aperto 24 ore su 24 e il panino che mi avete consigliato di provare è quello con il cavallo. Melanzane e altro, quindi vamos. Paninozzo di un'arroganza unica con il cavallo, melanzane impanate, scamorza e ketchup. Veramente enorme, pagato 7 euro, perciò andiamo all'assaggio. Buona appetita a tutti. Porca vacca cos'è questo cavallo. Panino bello soffice, carnina tenera, succosa. Il ketchup con la scamorza fa un lavorettino spettacolare, c'è l'affumicato, il dolce del ketchup. Porca vacca che bomba. Guardatelo in faccia e provate a dirvi qualcosa. Porca vacca, carne di cavallo e tanta roba. Un po' di sale, olietto e a posto lei. Un bel posticino, vai. E dopo il paninozzo street food dal baffo, voglio continuare sullo street food cagliaritano. E per questo si opta per la pizzetta d'oro dal 1972, lo street food per eccellenza di Cagliari. Per farvi capire quanto è gettonato questo posto per mangiarsi la classica pizza a passeggio cagliaritana, vi dico solamente che Nicola, il ragazzo dello scorso food tour che mi ha portato i biscotti, mi ha consigliato di venire qui all'apertura, perché se no se arrivi dopo non trovi più le pizze. Io sono venuto qui, prima che aprisse addirittura, e l'ho prenotata, perché adesso c'è già anche la fila fuori, la gente che aspetta, è pazzesco. E la pizzetta da passeggio non è altro che una pizzetta tonda, piegata. Mi sono preso una margherita, e poi quella con la salsiccia. Sono una cosa come 2000 gradi queste pizzette. Andiamo all'assaggio, buona appituta a tutti. Classica pizzettina da forno. Mozzarella, pomodoro, cioè non ha pretese, è molto semplice. Bella filante, soffice. Questa è proprio la classica merenda che fai quando sei alle medie. Pagata 2 euro la margherita. Passiamo adesso con quella salsiccia. Anche se a me sembra salame, però... Sì, in realtà è salame, non è salsiccia, però va bene lo stesso è buona. E ora amici miei, è ora per cena. Cioè io penso che fino ad oggi, sì, abbiamo mangiato robe tipiche di Cagliari, però abbiamo scherzato. E qui adesso con la cena che si vede gli uomini, Porceddu. Ho conosciuto anche il maialetto e per questa cena a base di Porceddu opto di nuovo per la terza volta in questi foodtour per Sucumbidu. Ormai ci ho fatto l'abbonamento. Non c'è due senza Sucumbidu. Abbemus Porceddu. Eccolo qua, il famoso Porceddu sardo. Io sono veramente ufoico. Porcellino intero, cotto alla brace. Carnina bella tenera. Buona appetuta a titti. Della Sardegna. Tenero, saporito. Guardate quella cotica. Cioè, guardate di cosa stiamo parlando, eh. Porca manca. Sembra di mangiare pane carasola. Io questa la chiamo felicità. Il sapore è proprio di rosticceria. Sai no? Quando vai in una rosticceria, che ci sono i poli allo spiedo, senti quello odorino. Bello. Di carne, arrosto. Un voltino di Porceddu, cos'è improvvisato? Un orgasmo culinario. È la terza volta che vengo qui da Sucumbidu. Mi hanno offerto i biscottini con il musco. Io non bevo l'alcolice, ma cioè, se me li offrite. Forte. Troppo per me. Prima, dopo che ho pagato, mi hanno offerto anche un mirtino. È abbastanza fortarella, eh. Sono completamente di fuori adesso. Ovviamente quei biscottini, quel musco, non erano il dessert per chiudere la serata. Ho io, ho io quello che fa per noi. Seada. Un dolce a base di farina, uova, strutto, scorze di limone e pecorino. E questo posto si dà il caso che sia specializzato in questo dolce. Ci sono diverse tipologie di seada, con diversi tipologie di formaggio, ricotta. Un impasto integrale, alle quali ci puoi abbinare, tipo, 20 tipologie diverse di miele. Locale specializzato solamente su un piatto. Il dolce. Fighissimo. Sarà un profumo di scorze di limone. Veramente spettacolare, super fresco. Esterno fritto, ricoperto di miele. Interno bello sciolto e cremoso. No. Buona appetita a Titi. Spettacolare, il miele con il formaggio caldo. Esterno bello croccante, super dolce per il miele. E poi l'interno caldo, cremoso. Wow. Un dolce al quale non avevo mai sentito parlare. Questo sì che è un post cena, sardo, come si deve. Direi ottimo. Perciò da qui, da Corso Vittorio Emanuele, vi dico che per questa prima giornata di Food Tour è tutto. Siamo solamente a metà del secondo episodio e devo dire che la Sardegna continua a picchiare duro con nuovi cibi, nuovi sapori. Mi sta piacendo, però ci vediamo domani. Arrivederci. Da Panetteria Antico Forno che è esattamente fuori dal mio Airbnb, mi sono preso un pane tipico qui, credo. Non l'ho mai trovato a giro per l'Italia. che è questo panino alla ricotta con fuori lo zucchero. Buona per tutti, iniziamo questa seconda giornata di Food Tour. Sa di qualcosa, ma non riesco a capire cosa. Comunque all'interno praticamente è un pane normale. Però mi ricorda qualcosa, non riesco a capire cosa. Ah, ecco cos'è. Pane, burro e zucchero. Proprio i ricordi della nonna. Pane alla ricotta. Ci sta. Magari da aprire, ci mette un po' di miele e secondo me spacca. Per questa mattina stiamo solucamente con questo, che va dal mare. Ci vediamo direttamente stasera con l'aperitivo. Un signore aperitivo. Con il locale Tabonu. Ci troviamo proprio in Piazza Ianne, un po' il cuore della zona degli aperitivi qui a Cagliari. Dove ci sono tutti i locali, i barrettini con tavolini all'aperto, dove la gente mangia, beve e si diverte. Tabonu, per chi segue i daily vlog, l'avrà sicuramente già visto in un episodio. Infatti è anche a Firenze questo posto. Dove Firenze riporta la tradizione sarda, con i salumi, i formaggi, all'interno delle schiacciate. E proprio anche qui a Cagliari c'è una parte dedicata alle schiacciate, in onore degli artisti firentini. Perciò un pochino mi sento a casa. Però per questa sera ovviamente si opta per un bel tagliere di salumi, con formaggi e spiziosità varie qui di Cagliari, come Culargione e Spritti. Allora, questo aperitivo è un'opera d'arte. Cioè io mi dispiace a mangiarlo, questo tagliere pieno di colori, fritto, affettati. C'è un letto di pane carasau sotto. E' affatto a strati, c'è il pane carasau, la salsiccia sarda, poi tutti gli affettati, formaggi, Culargione, Spanadine. Assurdo, veramente spettacolare. Questo qui sarebbe per due persone a 15 euro. Io, è il paradiso. Cagliari, tanta roba. Mi attirano un botto di Culargione e Spritti. Guardate qua, spettacolari. Buona freddita a tutti. Sì, bello, il pieno, il sapore di menta. Pane fritto con sopra il guanciale sardo. Questo pane fritto praticamente veniva fatto dalle mamme, dalle nonne, bambini, quando il pane era secco. Ci mettevano la pastella d'uovo, semola, lo friggevano e tiravano fuori questa bella robetta, questa pulibatezza. Ma vogliamo parlare del grasso di guanciale sciolto sopra. Firlini di zucca fritti. Io sento un antico romano che lo imbocca, che gli danno proprio i grappoli d'uva in bocca. Un imperatore. Raviolino. Ripiamo di ricotta. Ricottina sarda. Pane carasau e si vola. Gnocchetto fritto. Ma cos'è questa squisitezza? Ma cos'è? Ma che bontà! C'è la patata dentro e la carne. Ma è buonissima. Andiamo con la panadina fatta sul momento. Tabonu, le bono. Top cibi di questo tagliere secondo me. Kulurjones. Miochetto e pane fritto. Ovviamente tutte cose fritte però. Se è fritto è meglio. Comunque a differenza che da noi nella penisola, l'aperitivo qui, cioè è proprio bello farlo anche da solo. È divertente. Scavare sotto, prendere il pane, fare tutti gli accostamenti con il formaggio, il salume. È tutt'altra esperienza. Dieci volte meglio. Guarda qua. Vengono fuori pezzi di pane carasau. Altro che patatine, San Carlo e sprizzo. Cagliari. Sa come farti godere. Può benessere. Ci pensa Cannas. Da qui ci pensa Cannas. È un ristorante di pesce super mega economico perché è un'orata. Ci vuole 3,50 euro ogni 100 grammi. Quindi è spettacolare. E ovviamente per questa cena cena si opta per il pesce, si inizia con una bella insalata di polpo e poi si prosegue con un'altra bella rovetta. Aglio, olio, prezzemolo. Semplice, efficace. Buona appetita a tutti. Il polpo è bello tenero. Saporito, salato, giusto. Spaghetti alla buttarga. Sarebbe la buttarga essenzialmente le uova del mugine prese, essiccate e grattugiate sulla pasta. Ha un odore fortissimo di mare, di pesce. Porca vacca. Cioè qui se sai la pasta è un insalato al cubo. Veramente molto salate per me. Però è molto buono se poi di pesce che c'è, è molto strong. È come aver preso una boccata di acqua salata. E siamo venuti qui solamente per l'acquisura, per il secondo. Frittino misto. Totani, paranza varia, gamberetti, croccantezza e fritto. Tutto anellino. Ok, ieri sennio brutalmente scordò di chiudere la giornata. In questo momento ci troviamo nella terza giornata di Food Tour, di questo secondo episodio qui a Cagliari. E andiamo a concluderlo nel migliore dei modi. Come ben sapete uno dei miei cibi preferiti sono i panini. E una cosa che ancora non ho fatto durante questo Food Tour a Cagliari è fare il mio panino, diciamo. Quello che racchiude all'interno tutti i prodotti tipici sardi che ho provato in questi giorni. Quelli i miei preferiti fra salumi, latticini. Vediamo che ti è fuori una bella robetta. Prima di tutto ci serve il pane. E per questo optiamo per panetteria, antico forno, dolci sardi. Mi sono preso un bel semolato e adesso il prossimo step, salume e latticino. Cagliari. Direi che ci siamo. Prepariamo il nostro paninozio. Coltellino a svizzera alla mano. Bellissimo. Come salume poi mi sono preso una bella mustella sarda che sarebbe questo affettato che mi è ricavato dal culetto del maiale. Spettacolare. Guardate qua che colorino. Bella rosa. Mi sono preso un etto e mezzo, forse ho esagerato un pochino. E poi ovviamente come latticino, come formaggio. Ricottina affumicata. Mi sono letteralmente innamorato. Facciamoci delle belle fettine per andare a unire così dolcezza del prosciuttino con l'affumicato e la ricotta. Direi che ci siamo. La merenda dei campioni. E questo signori miei è il mio panino per la Sardegna, per Cagliari. Buona appetita a tutti. Ci sarebbe stato ad addio veramente un goccino d'olio. È un po' asciutto però. La combinazione di sapori mi garba di brutto. La colazione per diventare forti e grandi. Ultimo pranzo qui a Cagliari. Ultimo pranzo di questa serie di food tour. Ci manca ancora un primo piatto da assaggiare della cultura, da tradizione sarda cagliaritana. E per questo andremo, opteremo per l'osteria cagliaritana. Malloredus alla Campitanese. I malloredus sono degli gnocchi, i classici gnocchetti sardi e con sugo di pomodoro, basilico e salsiccia. Buona appetita a tutti. Che sughetto ragazzi. Che sughetto. Questo sughetto con la salsiccia è veramente spettacolare. È saporito, cremoso, sapidità perfetta secondo me. E con questi malloredus, amici miei, abbiamo finito, credo, i primi piatti della cucina cagliaritana che ho trovato nei ristoranti. Perciò non abbiamo rimpianti, non possiamo rimpiangere niente. Ma potevo andarmi da Sardegna senza assaggiare il tiramisù. La Sardegna è uno dei posti dove sono stati inventati i samoiardi, che sono le fondamenta del tiramisù insieme al mascarpone. Perciò direi che si doveva fare una cosa. Bellissimo il tiramisù in questa tazzettina che ricorda molto casa della nonna. È il tiramisù, è il tiramisù, amici miei. Orgasmo culinario. Mascarpone leggero, bello spumoso, denso, savoiardi, nel sapoio di caffè. Cosa c'è di mangiare la vita? È una masca, vorrei tiramisù io. Perciò, amici miei, a malincuore perché ci stavo bene qui a Cagliari, il sole, il caldo. No, forse per il caldo no, quello non si respirava. Però il cibo veramente buonissimo, è stata veramente una scoperta spettacolare. Sicuramente tornerò e magari si farà un viaggio o un road trip anche nel nord della Sardegna, a scoprire tutta l'entroterra, le spiagge e tutte le città sarde con tutte le loro bellezze da offrire, sia culinarie che culturali. Io spero che questi food tour vi siano piaciuti. Spero di aver fatto un piccolo regalo alla città di Cagliari con questi, di aver fatto conoscere la sua cultura culinaria e la città stessa. Perciò, amici miei, noi come alzotti ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci!